Ciao a tutti, sono Angela Mattevi e mi trovo al Green Green Info e Sapori Agrumesi di Altavalle. Sono qui per invitarvi a sostenere il progetto con il vostro voto per il concorso 176 volte Europa. Votate per il Green Green e per tutta la comunità della Valle di Cembra. Grazie!